Poi Kalates la mette da tre. Qui Spanulis lo semina, prova a tornare a ringhiare sul leader dell'Olimpia Cosi. 33 che gli porta via la palla dalle mani. E adesso va a finire contro Minutinov. Dietro la testa. In top ten. Fa tutto Kalates e riporta il panno lì vicino.